Benvenuti alla seconda lezione di questo ciclo sulle frontiere della biologia. Oggi non c'è bisogno di fare tanti preamboli come alla prima lezione in cui ho preso un pochino troppo tempo, perciò vediamo oggi di essere più rapidi. E pensando a... qualcuno mi diceva che domani ha sei ore di lezione, ecco. Quindi benvenuti appunto agli eroici insegnanti di scuola secondaria. E pensando anche a questo vediamo di concludere in tempi ragionevoli. Allora avremo la conferenza-lezione sull'argomento che vedete indicato in diapositiva, seguito da un coffee break, questa volta meglio organizzato, seguito da discussione prima di tutto. Poi coffee break, questa volta meglio organizzato della prima, è stato un po' sommario. E la traduzione didattica dell'argomento da parte della professoressa Gloria Marchetti, mi diceva Isabella Marini. E ora do la parola tra un momento alla dottoressa Valentina Castiglioni, che è una neurobiologa dello sviluppo, biologa cellulare, lavora a Milano nel laboratorio della professoressa Elena Cattaneo, che nomino anche perché è agli onori della ribalta, in quanto recentemente è diventata senatrice, uno dei quattro senatori a vita nominati dal presidente napolitano. E si è già distinta, è una scienziata, grande scienziata sul tema delle cellule staminali, che si è già distinta per aver organizzato in Senato eventi per far conoscere ai nostri parlamentari la scienza, perché non è detto che noi che ci siamo dentro pensiamo che siano conoscenze ovvie, ma invece sappiamo che così non è. Valentina lavora appunto presso il Centro per lo studio delle cellule staminali, si chiama, diretto dalla professoressa Elena Cattaneo a Milano, e in particolare si è occupata dell'argomento di cui parlerà, quindi generazione di cellule pluripotenti indotte a partire da fibroblasti di topo e umani, quindi generazione di cellule staminali a partire da fibroblasti, e questo in particolare come modello di ricerca per la malattia di Huntington, che è una delle patologie di cui il laboratorio di Elena Cattaneo si occupa attivamente. E Valentina Castiglioni lavora anche sul differenziamento di cellule staminali embrionali umane verso neuroni striatali, dello striato, e anche dello sviluppo, del normale sviluppo dello striato durante lo sviluppo fetale umano, e perciò la ringraziamo per aver interrotto i suoi esperimenti e essere venuta qua, cosa che costa sempre un po' ai ricercatori giovani, e la ringraziamo in anticipo per questa sua lezione. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, in realtà non è stato assolutamente uno sforzo di venire oggi qui. Quindi, appunto, come diceva la professoressa Barsacchi, io da che mi sono laureata nel laboratorio della professoressa Cattaneo mi sono sempre occupata di cellule staminali, sia di topo che di uomo, e in particolar modo del loro differenziamento verso neuroni. Quello di cui vi parlerò oggi sono un po' le caratteristiche delle cellule staminali di cui immagino vi abbia parlato già la scorsa settimana anche il professor Broccoli, e volevo un po' soffermarmi su questa nuova tecnologia, che è la tecnologia della riprogrammazione cellulare. Ok, quindi esistono diversi tipi di cellule staminali che vengono classificate in diverse categorie sulla base della loro potenza differenziativa. Quindi esistono cellule totipotenti che sono in grado di generare un intero organismo, e in realtà l'unica cellula totipotente è lo zigote, derivante dalla fecondazione dell'ovulo da parte dello spermatozoo. Abbiamo poi cellule pluripotenti, che sono cellule staminali in grado di differenziare verso tutti i tipi cellulari che costituiscono il nostro organismo, ad eccezione dei tessuti extraembrionali, e in questo caso si parla di staminali embrionali. Abbiamo poi le cellule multipotenti, che sono in grado di differenziare in un numero ridotto di tipi cellulari, e si parla in questo caso di cellule staminali adulte. Un esempio di cellule staminali adulta è ad esempio la cellula staminale neurale, che è normalmente presente nel cervello di ciascun individuo, anche adulto, dalla quale è possibile la generazione solamente di tre tipi cellulari, che sono i neuroni, gli astrociti e gli oligodendrociti. Da una cellula staminale neurale, in condizioni normali, non è possibile ottenere una cellula differente, come ad esempio una cellula diposa o una cellula del tessuto osseo. E infine ci sono le cellule unipotenti, che sono cellule staminali, che sono in grado di generare un singolo tipo cellulare. Parlando quindi nello specifico delle cellule staminali embrionali, quindi sono cellule che sono dotate di un grado di potenza molto elevato, sono definite quindi pluripotenti, e sono caratterizzate anche da un'altra caratteristica principale, che è l'autorinnovamento. Una cellula staminale embrionale è in grado di dividersi all'infinito, originando sempre cellule identiche a se stessa. Da una cellula staminale, quindi, noi siamo in grado di ottenere tutte le cellule che derivano dai tre foglietti embrionali, che sono l'endoderma, il mesoderma e l'ectoderma. Come si deriva una cellula staminale? La cellula staminale deriva dalla blastocisti, che, vediamo se ce la facciamo, questa struttura, la blastocisti contiene al suo interno, scusatemi, una massa di cellule, che può essere dissociata dal resto della blastocisti, piastrata in vitro e coltivata, permettendo in questo modo la generazione di una linea cellulare, che può essere poi mantenuta in vitro in maniera controllata, garantendo quindi il mantenimento delle sue caratteristiche di pluripotenza. Le prime cellule staminali embrionali di topo sono state derivate nel 1981, quindi c'è una lunga storia alla base del loro studio e del loro utilizzo in vitro, mentre le cellule staminali umane sono un pochino più recenti e sono state derivate per la prima volta nel 1998 dal dottor Thomson. Le cellule staminali sono poi caratterizzate da una serie di proprietà che permettono quindi di distinguerle da qualunque altro tipo cellulare. In particolar modo esprimono dei marcatori specifici che vengono definiti di pluripotenza. Questi marcatori comprendono sia delle proteine nucleari che sono coinvolte nella regolazione della trascrizione genica, come ad esempio OCT4 e NANOG, ma anche proteine che sono espresse sulla superficie cellulare, come ad esempio l'SSA3 e il Tra1-81. Questi marcatori sono espressi esclusivamente da cellule staminali embrionali. Nessun altro tipo di cellule esprime questi marcatori, quindi facendo un'analisi in vitro è possibile, sulla base della positività o meno di questi marcatori, distinguere una staminale embrionale da un diverso tipo cellulare che quindi esprimerà fattori differenti. Sono inoltre in grado di differenziare in vitro, nei tre foglietti embrionali, questi sono degli esempi di immunofluorescenze che vengono normalmente effettuate in laboratorio per valutare la capacità di queste cellule di differenziare, ma sono ovviamente in grado di differenziare anche in vivo. Se quindi voi iniettate delle cellule staminali in topi che sono immunodeficienti, che quindi sono incapaci di rigettare le cellule che voi avete trapiantato, le staminali embrionali sono in grado in vivo di dare origine a diversi tessuti. e qui abbiamo degli esempi, ad esempio questa è una porzione di retina, possono dare origine alla cartilagine, all'osso, questo è un tessuto del rene. Infine, nel caso delle cellule staminali embrionali di topo, se queste vengono iniettate all'interno di una blastocisti ricevente, sono in grado di contribuire alla generazione di un nuovo organismo, originando quindi una chimera. Ovviamente questo tipo di esperimenti non può essere effettuato nel caso delle cellule staminali embrionali umane. Per valutare la loro pluripotenza, quello che si fa è semplicemente valutarla in vitro tramite differenziamenti specifici e in vivo tramite iniezioni in topini immunodeficienti per vedere se sono in grado di generare teratomi. Un'altra categoria di cellule staminali pluripotenti che viene ampiamente utilizzata in un elevatissimo numero di laboratori sono le cellule staminali pluripotenti indotte. Sono state definite tra le dieci più importanti scoperte scientifiche e la generazione delle cellule staminali pluripotenti indotte che più semplicemente vengono chiamate IPS è valsa Shina Yamanaka, il premio Nobel nel 2012 per la fisiologia e per la medicina. Shina Yamanaka è stato il primo al mondo che è stato in grado a partire da cellule differenziate, in questo caso fibroblasti derivati dalla pelle di un topo, di riprogrammare queste cellule riconvertendole in cellule staminali pluripotenti. Quindi è come se fosse stato in grado di ringiovanire una cellula differenziata rendendola una cellula in grado di differenziare verso qualunque tipo cellulare. È stata veramente una scoperta che ha completamente rivoluzionato il mondo scientifico e che ha avuto numerosissime conseguenze. Esistono diversi tipi, diversi sistemi per trasformare una cellula somatica in una cellula staminale embrionale, alcuni dei quali erano già stati utilizzati in precedenza. Un primo metodo è quello del trasferimento nucleare che è il sistema che è stato impiegato per generare la pecora dolli. In questo caso, quello che è stato fatto è stato prendere il nucleo di un'ocita e trasferirlo all'interno di una cellula somatica rendendola nuovamente pluripotente. Un altro sistema è un sistema che viene chiamato fusione in cui si fa fondere una cellula somatica con una cellula staminale. Questo sistema però porta alla generazione di una cellula che è sì pluripotente ma che contiene al suo interno due nuclei sia il nucleo della cellula staminale sia quello della cellula somatica. E infine è stato scoperto questo sistema definito riprogrammazione. Questo ha reso quindi possibile generare delle cellule staminali pluripotenti a partire da qualunque tessuto e quindi anche da qualunque organismo compreso poi l'uomo. Il primo lavoro è stato pubblicato nel 2006 dal professore Yamanaka e questo studio è partito da 24 geni candidati tutti i 24 questi geni sono coinvolti nel controllo dello stato di pluripotenza. Quello che è stato fatto è stato forzare l'espressione di questi 24 geni mediante infezione con dei virus. Quindi la cellula somatica derivata dal tessuto del topo è stata infettata con 24 tipi diversi di virus ciascuno dei quali esprimeva uno di questi fattori di trascrizione che vengono quindi espressi in una cellula che normalmente non lo fa. È sufficiente che questi fattori siano espressi affinché una cellula differenziata si converta in una cellula pluripotente. Quindi da fibroblasti che hanno questa forma allungata dopo all'incirca una ventina di giorni sono stati in grado di generare delle cellule staminali pluripotenti che sono quasi del tutto identiche alle staminali embrionali quindi esprimono gli stessi marcatori di pluripotenza e hanno la stessa morfologia. Quello che è stato fatto poi successivamente è stato cercare di semplificare il protocollo andando a identificare i fattori indispensabili per il processo di riprogrammazione e quindi da 24 candidati sono stati identificati quattro fattori di trascrizione che sono sufficienti e indispensabili per generare una cellula pluripotente a partire da una cellula differenziata e da qui diciamo che si è veramente aperto un mondo. Le IPS quindi come le staminali embrionali esprimono marcatori tipici sono in grado in vitro di differenziare verso i derivati dei tre foglietti embrionali formano teratomi quando sono iniettati in vivo permettono la produzione di chimere quando iniettati in blastocisti e cosa molto importante si verifica ad un certo periodo del processo un silenziamento di questi transgeni cosa significa? Che nel momento in cui la cellula differenziata è stata riprogrammata a cellula staminale embrionale questa comincia ad esprimere da sé i geni necessari al mantenimento della pluripotenza e quindi non avendo più la necessità che i geni che noi abbiamo introdotti vengano espressi di silenzia e questa è una caratteristica estremamente importante perché in questo modo nel momento in cui una cellula staminale pluripotente viene poi differenziata non viene mantenuta continuamente l'espressione dei geni della pluripotenza inseriti da noi che potrebbero in qualche modo ad esempio bloccare il processo di differenziamento c'era però un problema tra i fattori di trascrizione utilizzati per la riprogrammazione c'è un oncogene che si chiama SIMIC che nel caso in cui venga riattivato può portare alla formazione di tumori come in questo caso quello che si è cercato di fare quindi a partire dal 2006 è stato mettere in atto diverse strategie che aumentassero prima di tutto l'efficienza di questo processo perché è un processo estremamente inefficace all'epoca in quanto presentava un'efficacia di circa lo 0,01% e poi soprattutto quello che si è cercato di fare è renderle più sicure quindi il primo passo è stato cercare e in realtà ce l'hanno fatta è stato generare quindi delle cellule IPS senza questo oncogene quindi senza SIMIC il processo funziona ha un'efficienza più bassa ma le IPS che vengono generate sono molto più sicure perché non si corre il rischio che a un certo punto nel momento in cui queste cellule vengono ad esempio utilizzate per un trapianto SIMIC si riaccende quindi dia origine ad un tumore che ovviamente è indesiderato circa un anno dopo sempre il gruppo di Yamanaka ha generato le prime cellule IPS umane in questo caso sono state generate da due diversi soggetti sia un uomo che una donna e sono stati generati utilizzando lo stesso cocktail di fattori di trascrizione che si era dimostrato efficace nella generazione di IPS da topo sempre nello stesso anno un altro gruppo a distanza di pochissimi mesi ha pubblicato un secondo lavoro nel quale sono state generate sempre delle cellule IPS umane a partire da fibroplasti utilizzando però dei fattori di trascrizione differenti da quelli impiegati dal gruppo precedente questo ha fatto quindi capire che in realtà il processo della riprogrammazione è un processo che è abbastanza malleabile che richiede quindi in realtà l'espressione di fattori chiave che non necessariamente sono sempre gli stessi affinché il processo abbia abbia luogo da qui in realtà diversi gruppi nell'arco di un paio d'anni hanno pubblicato lavori durante i quali sono stati sono stati pubblicati diversi lavori che hanno dimostrato come fosse possibile generare cellule IPS pressoché da qualunque tipo cellulare quindi vabbè i primi sono stati fibroblasti sono state poi generate cellule a partire da epatociti da cellule staminali neurali da linfociti da cellule dello stomaco o del o del fegato e nel caso dell'uomo sono state generate addirittura dalle cellule presenti nel follicolo dei capelli o dai cheratinociti quindi rendendo il processo anche molto più semplice partendo da cellule che fossero diciamo molto facili da prendere quindi che non richiedessero come ad esempio nel caso dei cheratinociti o di cellule del follicolo pilifero una biopsia perché nel caso della derivazione da fibroblasti quello che si fa è una piccola biopsia durante la quale si prende una piccola porzione di tessuto dalla quale poi si derivano i fibroblasti che vengono poi successivamente infettati da qui poi si è aperto un capitolo nel quale numerosissimi laboratori hanno dato il loro contributo che ha avuto lo scopo di migliorare la tecnologia dell'APS perché appunto si è dimostrata una tecnologia veramente vincente che ha permesso poi in realtà di aprire la strada verso una medicina rigenerativa che fosse personalizzata quindi come prima cosa si è cercato di incrementare l'efficienza del processo di ridurre il numero di fattori necessari alla riprogrammazione e soprattutto di utilizzare dei sistemi in cui fosse possibile rimuovere dal genoma della cellula puliripotente creata in vitro i geni utilizzati per il processo della riprogrammazione sempre per cercare di aumentare il più possibile la sicurezza di queste cellule e infine si è cercato anche di utilizzare dei metodi alternativi che non richiedessero l'utilizzo di virus quindi per incrementare l'efficienza di programmazione sono stati pubblicati diversi lavori che hanno dimostrato come l'aggiunta di composti chimici ai terreni di cultura permettesse di incrementare l'efficienza anche più di 10 volte quindi permettendo di rendere il processo molto più efficace per quanto riguarda invece i fattori di trascrizione necessari al processo di riprogrammazione si è scoperto che a seconda del tipo di cellula somatica impiegata nel processo era possibile ridurre i fattori di trascrizione impiegati il primo esempio è stato quello di questo lavoro in cui è stato dimostrato come fosse possibile utilizzare solamente due fattori di trascrizione e non più quattro per ottenere cellule IPS che fossero del tutto identiche alle cellule staminali embrionali che vengono sempre ovviamente utilizzate come riferimento ovviamente meno sono i geni di cui noi forziamo l'espressione nella cellula somatica meglio è in alcuni casi addirittura nel momento in cui sono state riprogrammate cellule staminali neurali che già di loro esprimono il fattore SOX2 queste cellule sono state riprogrammate addirittura utilizzando un solo fattore di trascrizione la cui espressione risultata quindi il tassello mancante per riconvertire una cellula staminale multipotente come è la staminale neurale in una cellula pluripotente infatti questo è il lavoro infine questa è una semplicissima tabella che riassume tutti i cocktail di fattori di trascrizione che sono stati impiegati nel tempo e in alcuni casi è appunto sufficiente un solo fattore di trascrizione per ottenere le IPS infine diciamo che una delle cose più importanti è stato rendere le IPS sicure quindi i primi protocolli richiedevano l'utilizzo di retrovirus oppure di lentivirus che infettassero le cellule somatiche un retrovirus quando infetta una cellula somatica integra il proprio genoma nel genoma della cellula ospite quindi questo significa che i fattori di trascrizione si andavano ad inserire in maniera completamente casuale all'interno della cellula del fibroblasto quindi rischiando di alterare la normale espressione genica ma soprattutto magari di andare ad attivare dei locus genici che determinassero poi ad esempio un'iperproliferazione cellulare e che dessero poi origine a tumori quindi quello che si è cercato di fare come prima cosa è stato di utilizzare dei virus che non integrassero il proprio genoma in quello della cellula ospite per evitare appunto di modificarlo e i virus impiegati sono stati gli adenovirus utilizzando quindi gli adenovirus io sono in grado di forzare l'espressione di questi fattori senza però che questi geni si inseriscano nel mio genoma e quando poi questi geni non sono più necessari vengono eliminati dalla cellula da qui sono state poi sviluppate diverse tecniche alcune delle quali hanno reso questi virus eccessibili quindi il gene si integra viene espresso permette la riprogrammazione ma poi io sono in grado di eliminarlo dal genoma eliminando quindi una potenziale forma di pericolo per la cellula successivamente sono stati utilizzati dei sistemi ancora più complessi ma sempre più sicuri il primo di questi è stato l'utilizzo delle oh mamma mia aspettate un secondo mi sono persa ok l'utilizzo delle proteine quindi in questo caso non sono più io che inserisco il gene e utilizzo la cellula ospite per far esprimere questo gene ma io inserisco direttamente la proteina all'interno della cellula ospite quindi la mia cellula ospite contiene al suo interno delle proteine che normalmente non possiede queste proteine attivano il processo di riprogrammazione e una volta che la cellula è riprogrammata io ho a disposizione una cellula IPS il cui genoma non è stato mai toccato e che non contiene elementi estranei al suo DNA un'alternativa all'utilizzo delle proteine è stato anche l'utilizzo degli RNA messaggeri quindi io inserisco all'interno della cellula l'RNA messaggero che viene tradotto e quindi la cellula ospite produce la proteina che la riprogramma in questo modo quindi io riprogrammo la mia cellula senza però andare in alcun modo a modificare il suo genoma e senza quindi renderla potenzialmente diciamo una bomba orologeria in realtà ultimamente si sono addirittura spinti oltre questo è un articolo che è stato pubblicato circa un mese e mezzo fa durante il quale loro mostrano come sono stati in grado di generare delle cellule staminali pluripotenti semplicemente modificando il pH del medium all'interno delle quali queste cellule crescevano quindi sembrerebbe addirittura che sia sufficiente modificare l'ambiente in cui le cellule crescono per scatenare il processo di riprogrammazione diciamo che questo sarebbe il sistema più sicuro in assoluto per generare queste cellule pluripotenti indotte ma perché le cellule pluripotenti sono importanti perché se io posso prendere da un pezzettino di pelle di ciascuno di noi dei fibroblasti e trasformare i fibroblasti in cellule pluripotenti significa che ho a disposizione uno strumento estremamente potente perché ho una cellula che può essere differenziata in qualunque tipo cellulare del nostro organismo ma soprattutto la cellula differenziata che io ottengo è mia perché è stata derivata dal mio fibroblasto quindi nel momento in cui si va a pensare all'utilizzo delle cellule staminali pluripotenti indotte come metodo per una terapia cellulare io faccio una terapia cellulare che è personalizzata se io dovessi trapiantare le IPS generate dai miei fibroblasti in poniamo cellule beta-pancreatiche che se cernono insulina nel momento in cui io avrò la necessità di ricevere un trapianto di cellule beta-pancreatiche io mi trapianto le mie di cellule che hanno il mio genoma e che non vengono quindi rigettate dal mio organismo quindi questo diciamo è forse l'aspetto più importante in assoluto di questa tecnologia la possibilità di avere a disposizione una medicina rigenerativa che sia personalizzata e infatti grandissimi sforzi sono stati fatti nel generare cellule IPS che fossero patologia specifica in maniera tale da avere a disposizione un modello in vitro che riproponesse alcuni aspetti della malattia sia per fare della ricerca di base e capire quali sono i meccanismi alla base di questa patologia ma anche ad esempio per utilizzare queste linee cellulari per lo screening di farmaci fatto in vitro e quindi testare migliaia di composti a batteria per identificare quel composto che magari è in grado di migliorare la patologia o agire sul meccanismo che è alterato e che è alla base della malattia questo è un elenco delle patologie diciamo che affliggono la popolazione degli Stati Uniti e il numero di persone che sono affette da ciascuna di questa patologia è veramente elevato per un totale di circa 130 milioni di americani che potrebbero potenzialmente essere curati con la tecnologia delle cellule IPS quindi questo è il motivo principale per cui tanti sforzi sono stati impiegati negli ultimi sette anni da che le IPS sono state generate per studiare queste cellule e capire come utilizzarle questi sono alcuni esempi di articoli che sono stati pubblicati che hanno utilizzato appunto le IPS come modello per lo studio di patologie in questo caso ad esempio patologie neurodegenerative come la malattia di Parkinson o la distrofia muscolare o la sclerosi laterale amiotrofica ok una cosa importante è la possibilità di studiare una malattia neurogenerativa neurodegenerativa in vitro non solo dipende dalla disponibilità di un sistema cellulare che sia in grado di differenziare verso la cellula che muore nella malattia che noi stiamo studiando ma dipende anche dalla disponibilità di un sistema che in vitro mi permetta di differenziare la mia cellula staminale pluripotente verso il tipo cellulare che io devo studiare se io quindi devo studiare la malattia di Huntington ad esempio che è una malattia neurodegenerativa ereditaria in cui si ha una atrofia dello striato in cui si ha quindi proprio una morte selettiva dei neuroni presenti nello striato se io voglio studiare la malattia di Huntington in laboratorio io devo avere a disposizione un protocollo che mi permetta di ottenere un neurone striatale a partire da una cellula staminale embrionale se devo studiare il Parkinson avrò bisogno di un protocollo che mi permette di differenziare verso i neuroni dopaminergici che sono quelli che muoiono nella malattia di Parkinson se studio il diabete anche in questo caso devo avere un protocollo specifico che mi permetta di ottenere le cellule che io devo studiare nel caso dello studio delle malattie neurodegenerative i protocolli a disposizione sono molto numerosi ciascuno caratterizzato da un'efficienza differente e ciascuno in grado di permetterci di ottenere in vitro uno specifico tipo di neurone tutti i protocolli di differenziamento però sono più o meno basati sull'utilizzo di molecole che permettono quindi di trasformare prima una cellula staminale embrionale in un precursore neurale e poi successivamente di far maturare questo precursore neurale in un neurone questi protocolli diciamo che possono richiedere tempi diversi noi in laboratorio abbiamo sviluppato un protocollo per l'ottenimento di neuroni esteratali che richiede ben 80 giorni di differenziamento altri protocolli sono un pochino più brevi però diciamo che all'incirca una trentina di giorni di differenziamento in vitro sono necessari per poter trasformare una staminale embrionale in un neurone che sia il più possibile somigliante ai neuroni che sono normalmente presenti nel nostro cervello che quindi esprimano marcatori specifici che siano in grado di ricevere e di mandare ad esempio degli impulsi elettrici o che siano in grado di rispondere al rilascio di neurotrasmettitori durante il processo di differenziamento si passa sempre attraverso un intermedio che è la staminale neurale nel caso del differenziamento in vitro quello che succede è che le cellule staminali durante il differenziamento si organizzano in delle strutture che vengono chiamate rosette queste strutture sono delle strutture altamente organizzate caratterizzate da un lume centrale dal quale le cellule si dispongono in maniera radiale all'interno della della rosetta esiste una precisa gerarchia le cellule che sono vicino al lume sono precursori neurali che sono ancora in grado di dividersi e che sono in realtà delle cellule multipotenti che possono dare neuroni astrociti oppure oligodendrociti mentre nella porzione più esterna si vanno a localizzare quelle cellule che hanno già cominciato a differenziare sono come stratificate e la rosetta è in vitro la struttura che più assomiglia al tubo neurale che è la struttura primitiva che noi abbiamo in vivo dalla quale poi si sviluppa l'intero sistema nervoso centrale questi sono esempi di rosette neurali nel caso delle cellule staminali embrionali di topo sono sufficienti all'incirca sette giorni affinché la cellula staminale si trasformi in un precursore neurale nel caso dell'uomo il processo è un pochino più lungo richiede all'incirca una quindicina di giorni questa foto qui sotto è una foto di un di un embrione umano a tre settimane e tre giorni di sviluppo e questo qui è il tubo neurale anche qui è presente un lume centrale e la rosetta ha un'organizzazione che è del tutto somigliante a quella del tubo neurale in vivo questa è una fotografia che mostra dei neuroni di topo ottenuti dopo 14 giorni di differenziamento tutti i protocolli di differenziamento hanno uno scopo quello di bloccare l'espressione dei geni della pluripotenza e di attivare l'espressione di geni che sono necessari per il differenziamento prima a precursore neurale e a neurone successivamente nel caso delle cellule staminali embrionali di topo ad esempio per indurre il differenziamento è sufficiente eliminare dal terreno di cultura quelle molecole che garantiscono il mantenimento dello stato di pluripotenza a quel punto la cellula non è più mantenuta sotto controllo si trova in una situazione nella quale può praticamente fare qualunque cosa voglia differenzia in maniera casuale e quindi tra le diverse cellule che può originare ci sono anche i neuroni nel caso di protocolli specifici quello che si fa è oltre ad eliminare le molecole che la mantengono imprigionata nel suo stato di pluripotenza si aggiungono altre sostanze che invece spingono il differenziamento solo verso il destino neurale e impedendo il differenziamento verso tutti gli altri tipi cellulari nel quale una cellula può differenziare nel caso dell'uomo il processo è del tutto simile semplicemente è un processo che è un po' più lungo quindi se noi paragoniamo diciamo lo sviluppo in vivo allo sviluppo in vitro anche nel caso dell'uomo le rosette neurali sono quella struttura che diciamo rappresenta la controparte in vitro del tubo neurale e all'incirca sono necessari appunto come dicevo prima un paio di settimane per arrivare a questo step dopodiché il precursore neurale comincia a differenziare verso un neurono maturo quindi la prima cosa che fa è perdere la capacità di duplicarsi quindi diventa una cellula che viene definita post mitotica perché non può più proliferare ma l'unica cosa che può fare è maturare verso il suo destino tra i diversi protocolli che abbiamo a disposizione per differenziare le staminali embrionali verso neuroni vi è questo il protocollo che è indicato qui sotto che al momento è il sistema che viene maggiormente utilizzato nei diversi laboratori perché ha diciamo diversi diversi vantaggi come prima cosa permette di differenziare le cellule come un monostrato quindi questo vi permette semplicemente guardando le cellule al microscopio di osservare i cambiamenti alle quali le cellule vanno incontro in maniera tale anche da capire se il differenziamento sta procedendo nel verso giusto oppure no e inoltre il differenziamento diciamo è indotto dall'utilizzo di molecole che quindi bloccano il differenziamento verso tutti i tessuti che non sono il tessuto nervoso quindi impediscono il differenziamento verso il mesoderma verso l'ectoderma e quindi la cellula si ritrova praticamente incanalata in una sorta di senso unico essendo state bloccate tutte le strade alternative l'unica cosa che può fare è inizialmente trasformarsi in un precursore neurale e quindi organizzarsi in rosette oltretutto questo è un protocollo che è estremamente efficiente perché ha un'efficienza che è superiore al 90% quindi voi avete una resa estremamente elevata la vostra popolazione è una popolazione che è molto pura non avete tipi cellulari che siano diversi dai vostri precursori neurali che possano quindi in qualche modo contaminare la vostra popolazione la vostra popolazione cellulare ok e quello che poi successivamente si fa è quello di modificando la composizione del medium nel quale le cellule differenziano far maturare il vostro precursore neurale in un in un neurone tutti questi protocolli di differenziamento che sono disponibili in letteratura sono tutti basati su studi fatti in vivo nei quali sono stati studiati tutti i meccanismi che portano alla formazione del tubo neurale e poi all'organizzazione del sistema nervoso centrale in tutte le strutture che lo costituiscono quindi quello che noi cerchiamo di fare in vitro è quello di si cerca di mimare quello che normalmente avviene in vivo per cercare di tradurre quello che si verifica normalmente durante lo sviluppo dell'organismo nel differenziamento delle nostre cellule questi protocolli sono più o meno efficienti a seconda di in parte quanto è noto il processo che sta alla base dello sviluppo dei neuroni che noi stiamo cercando di generare in vitro ma soprattutto anche dal tipo di neurone che uno vuole ottenere sono protocolli che sono estremamente vari in alcuni casi estremamente complessi che richiedono delle manipolazioni particolari delle cellule e sono molto molto lunghi in alcuni casi comunque se in tutti i casi senza che ci sia uno studio dello sviluppo in vivo alla base senza di questo nessuno di questi protocolli sarebbe stato possibile perché se io non so quali sono quelle molecole che mi trasformano la parte anteriore del tubo neurale nel telencefalo dove si sviluppa poi la corteccia cerebrale non potrò mai generare un neurone corticale dalla mia cellula staminal embrionale quindi tutti questi studi in vitro derivano da studi che sono durati decenni del normale sviluppo del sistema nervoso centrale in realtà io ho concluso spero di non essere stata troppo tecnica o troppo noiosa e qualunque domanda o curiosità sono assolutamente lieta di rispondere applausi grazie 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 non so se quindi deve essere generale ma invece poi lo stiamo in giro con la mia domanda però io mi chiedevo a te chiedevo e ti chiedevo in questo momento voi state cercando di generare quali tipi di neuroni e a che punto è questo tipo di lavoro e magari hai qualche immagine di queste neuroni che so modello per la malattia di Huntington oppure ecco forse ce l'hai in computer magari altrove e come dire una specie di mostra dello stato dell'arte del laboratorio già che ci siamo approfittiamo non so forse non è di interesse o è sì ecco è bene è di interesse generale mi dicono anche per per i licei allora il il laboratorio si occupa oramai da più di vent'anni dello studio della malattia di Huntington che è una è considerata una malattia rara è una malattia ereditaria che è causata da una mutazione genetica nel gene Huntington il gene Huntington lo ha ciascuno di noi ed è un gene particolare perché una porzione del gene è costituita da una tripletta CAG che è ripetuta diverse volte nel momento in cui questo numero di ripetizioni supera le 36 ripetizioni il gene diventa malato maggiore è il numero delle ripetizioni presenti nel gene più precoce è l'insorgenza della malattia e generalmente più severi sono i sintomi è una malattia dominante quindi è sufficiente che solamente uno dei due geni sia mutato affinché la malattia si verifichi è una malattia di insorgenza tardiva generalmente i sintomi si sviluppano dopo i 40 anni e comprendono inizialmente dei sintomi di natura motoria dovuti appunto al fatto che la mutazione provoca la degenerazione dello striato che rappresenta un'importantissima stazione di controllo dei movimenti quindi quello che si verifica inizialmente è la perdita nel controllo prima dei movimenti fini e poi di qualsiasi controllo motorio viene definita coria di Huntington perché i pazienti si muovono in maniera completamente incontrollata sono incapaci di controllare qualunque movimento e sono sempre in movimento dopo i primi sintomi motori cominciano ad esserci anche dei sintomi cognitivi e generalmente dall'insorgenza dei sintomi i pazienti muoiono all'incirca dopo una quindicina di anni il laboratorio si è occupato di diversi aspetti di questa malattia che comprendono sia lo studio delle funzioni del gene sano sia quello che si verifica nel momento in cui il gene è malato l'antintina è una proteina ubiquitaria che è espressa in tutte le cellule del nostro organismo però quando è mutata determina la morte solamente dei neuroni striatali e non se ne conosce il motivo svolge però anche numerosissime funzioni da sana e non tutte ancora sono state identificate è ad esempio fondamentale per proteggere la cellula dalla morte per apoptosi è fondamentale anche per la corretta produzione di una neurotrofina che si chiama BDNF che viene normalmente prodotta nella corteccia e poi viene trasportata fino nello striato dove garantisce la salute dei neuroni striatali nella malattia di Huntington ad esempio la produzione di BDNF è ridotta quindi quello che si verifica è che il neurone striatale non è più supportato nelle sue funzioni da questa neurotrofina e sicuramente questa alterazione partecipa alla neurodegenerazione dello striato ma sicuramente ci sono anche numerosi altri diciamo meccanismi che intervengono il laboratorio quindi da che ha iniziato a lavorare con le cellule staminali che è stato all'incirca nel 2006 se mi ricordo correttamente diciamo che la prima cosa alla quale si è interessata è stato cercare di sviluppare un protocollo che permettesse a partire dalle cellule staminali embrionali di ottenere neuroni striatali in maniera tale da studiare il meccanismo della patologia nel neurone che muore in maniera specifica nella malattia dal 2007 da che la tecnologia delle cellule IPS è stata resa disponibile a tutta la comunità scientifica il laboratorio ha utilizzato questa tecnologia prima per derivare delle cellule IPS da topi che presentano la mutazione del gene Huntington e poi successivamente da diversi pazienti il laboratorio collabora con l'istituto neurologico Besta di Milano che ha una vera e propria unità che si occupa di malati di Corea di Huntington quindi il laboratorio ha avuto la possibilità di avere dei fibroblasti da pazienti affetti da malattia di Huntington che sono stati riprogrammati ad IPS quello che il laboratorio ha fatto è stato differenziare queste cellule IPS verso neuroni per cercare di capire se il processo fosse in qualche modo alterato dalla mutazione ad esempio se la mutazione riducesse l'efficienza del differenziamento oppure se producesse dei neuroni più deboli rispetto ai neuroni generati da una cellula sana al momento di questo lavoro non avevamo ancora a disposizione un protocollo specifico quindi tutto il lavoro di studio che è stato fatto è stato fatto su neuroni che noi chiamiamo generici perché non è stato applicato un protocollo specifico adesso che siamo stati in grado di sviluppare un protocollo specifico quello che il laboratorio sta facendo è derivare delle nuove linee di IPS per cercare di avere una casistica abbastanza elevata di cellule a disposizione questo è estremamente importante perché ciascuna linea cellulare si comporta un po' a modo suo quindi aumentando il numero di linee cellulare a disposizione risulta più semplice capire se un determinato comportamento che noi osserviamo in vitro è un comportamento che è conseguente alla mutazione del gene oppure se ad esempio è conseguente a delle caratteristiche peculiari che quella linea cellulare ha quindi è di fondamentale importanza avere a disposizione tante linee cellulari per diciamo avere la certezza che l'eventuale alterazione che noi vediamo in laboratorio sia un'alterazione reale e non sia dovuta semplicemente al caso quindi il laboratorio ha sviluppato questo protocollo che appunto dura 80 giorni è un protocollo decisamente lungo che però al momento stiamo cercando di migliorare perché in realtà ci permette di ottenere sul totale dei neuroni ottenuti solamente un 20% di neuroni striatali che noi identifichiamo perché esprimono delle proteine specifiche che sono normalmente espresse nello striato umano e quindi significa che c'è un restante 80% di cellule che o non sono giunte completamente a maturazione oppure nel frattempo qualcuna è scappata al differenziamento striatale ed è diventata qualcosa di diverso quindi al momento quello che il laboratorio sta facendo è cercare di migliorare questo protocollo di differenziamento per aumentare l'efficienza e quindi il quantitativo di neuroni striatali che noi siamo in grado di ottenere in vitro esistono altri protocolli ad esempio per la generazione di neuroni dopaminergici che hanno un'efficienza stratosferica sono in grado di ottenere un 80% di neuroni dopaminergici e c'è un gruppo in particolare che si occupa di questi studi che è il gruppo che ha sviluppato questo protocollo di induzione neurale quindi che permette di ottenere i precursori neurali e al momento loro a breve dovrebbero addirittura iniziare un trial clinico perché garantendo una purezza così elevata della popolazione neurale che loro ottengono ovviamente loro hanno fatto degli studi prima nel topo nel ratto e nei primati dove hanno dimostrato che queste cellule se trapiantate nel cervello dell'animale sono in grado di sopravvivere al trapianto integrarsi nel cervello e i neuroni trapiantati sono in grado di fare connessioni con i neuroni presenti e ovviamente una parte di questi studi è stata effettuata anche su degli animali che avevano una lesione che riproduce diciamo la lesione che c'è normalmente nel malato di Parkinson e hanno dimostrato come questi neuroni essendo in grado di integrarsi nel cervello ospite sono in grado anche di migliorare notevolmente i sintomi della malattia quindi la possibilità come dicevo prima di avere l'APS permette quindi di avere un sistema cellulare che è tuo quindi nel momento in cui io trapianto nel paziente le sue stesse cellule bypasso anche tutti i problemi che sono legati al rigetto e alla continua somministrazione di farmaci antirigetto che un paziente che è trapiantato deve prendere per tutto il resto della vita questo per quanto riguarda le malattie neurodegenerative ci sono altre malattie come le leucemie che è da molto più tempo che vengono trattate con dei trapianti in questo diciamo che è tutto molto nuovo al momento diciamo che sia il Parkinson che la malattia di Huntington sono stati trattati in alcuni casi con un discreto successo effettuando dei trapianti di cellule fetali quindi in questo caso si prende materiale derivanti da aborti quindi sono cellule che vengono generalmente mantenute in vitro per un periodo molto breve e poi trapiantate nei pazienti questi trapianti richiedono però un quantitativo di cellule molto elevato che ovviamente data la natura del materiale che viene utilizzato per i trapianti prima di tutto non è sempre disponibile e poi ovviamente solleva anche una questione etica non indifferente nel caso invece della possibilità di utilizzare l'APS tutto questo problema è superato perché potendole generare in vitro io ho la disponibilità nel caso in cui il protocollo sia efficace di generare miliardi di neuroni che posso trapiantare nel caso in cui sia necessario un secondo trapianto magari a distanza di 4, 5, 10 anni è sufficiente ripetere la procedura ripetere il trapianto e quindi diciamo questo garantisce una sorta di disponibilità illimitata delle cellule questo però è veramente strettamente dipendente dalla capacità di produrli questi neuroni in vitro non sempre è semplice nel caso dei neuroni dopaminergici o dei motoneuroni c'è una storia molto solida alle spalle ci sono gruppi che oramai da 20 anni che si occupano del differenziamento verso questi tipi cellulari quindi ovviamente le conoscenze che sono a disposizione sono molto molto più elevate nel caso del differenziamento verso neuroni striatali in realtà al momento sono solamente tre i protocolli che sono stati pubblicati in letteratura quindi diciamo che siamo un po' un po' all'inizio in questo campo però diciamo che le potenzialità sono veramente illimitate veramente illimitate ma anche per anche per qualunque altro tipo di di patologia cioè se se il problema è dato dalla morte di uno specifico tipo cellulare se io sono in grado di generarlo in vitro ho una potenziale cura che sfruttando la tecnologia dell'IPS è personalizzata quindi sì nel io non sono un'esperta di diabete però ci sono dei lavori in cui sono stati sviluppati dei protocolli in grado di differenziare le staminali embrionali verso cellule beta pancreatiche che sono in grado di secernere l'insulina ci sono stati alcuni lavori in cui sono stati effettuati anche dei trapianti di cellule però diciamo che la mia conoscenza si ferma un po' qui so che Vania Broccoli la scorsa settimana ha parlato anche dei trapianti forse della cornea o della retina ma anche i trapianti di pelle il professore De Luca loro si occupano di questo quindi loro visto che in sostanza più o meno ogni tessuto adulto ha una sorta di riserva di cellule staminali adulte questo è vero anche nel caso della pelle quindi nel loro laboratorio loro fanno delle biopsie sono in grado di isolare queste staminali della pelle le amplificano e le differenziano in vitro e loro sono in grado di generare in vitro dei veri e propri lembi di pelle che credo forse ad eccezione del fatto che sono privi dei peli e delle ghiandole sudoripare e sebacee sono del tutto identiche alla pelle normale infatti loro le producono in questa facility che lavora secondo le famose GMP che sono le Good Manufacturing Practice quindi loro hanno un laboratorio che ha ricevuto l'ok per generare questi tessuti che poi vengono effettivamente trapiantati sui pazienti quindi tutto il processo dalla biopsia alla coltivazione al differenziamento è tutto strettamente controllato ci sono delle regole estremamente ben precise che devono essere assolutissimamente osservate per garantire che il tessuto prodotto sia sicuro prima di tutto e appunto fatto secondo le regole dunque io volevo fare due domande prima se neuroni striatali è il termine che indica i motoneuroni ok e poi siccome appunto si sente parlare del metodo stamina eccetera volevo sapere se questi studi possono accedere proprio ai pazienti umani proprio persone malate in che modo vengono infuse queste cellule io volevo sapere dove vengono posizionate nel sangue ok allora per quanto fa la prima domanda i neuroni striatali non sono i motoneuroni sono due tipi cellulari differenti i motoneuroni sono i neuroni che controllano vanno dal cervello al muscolo in sostanza quindi spediscono l'impulso dal cervello al muscolo e ne controllano il funzionamento il neurone striatale in realtà fa parte di un circuito che interessa anche la corteccia cerebrale e altre aree del cervello che diciamo è come se agisse un po' a monte dell'impulso che viene mandato dal motoneurone per quanto riguarda la questione stamina è una cosa decisamente molto delicata in realtà il protocollo che loro hanno reso disponibile è un protocollo che richiede l'esposizione di cellule mesenchimali che sono un tipo di staminale adulta praticamente ha due sostanze che sono l'acido retinoico e l'etanolo per 30 minuti e loro sostengono che sono sufficienti 30 minuti affinché questa stamina le mesenchimali si trasformi in un neurone è abbastanza improbabile che questo sia vero in realtà loro non hanno mai supportato con nessuna prova di natura scientifica la bontà del loro sistema io non so loro come abbiano mai fatto i trapianti però ad esempio parlo per quello che facciamo noi in laboratorio di cui so è che noi non abbiamo mai trapiantato nell'uomo prima di arrivare all'uomo c'è una strada che è decisamente molto molto lunga quindi generalmente la prima cosa che si fa è quando uno ha a disposizione un protocollo di differenziamento la prima cosa che si fa è un trapianto nell'animale quindi se si tratta di neuroni quello che si fa è trapiantare le cellule nel cervello dell'animale quindi a seconda del protocollo generalmente si fanno prima delle prove per cercare di capire qual è la popolazione migliore da trapiantare perché se io durante il mio processo di differenziamento allora le rosette sono ancora in grado di duplicarsi quindi se io prendo queste cellule e le trapianto queste nel cervello si duplicano quindi queste continuano a duplicarsi e poi forse differenziano il risultato è che io magari trapianto centomila cellule dopo tre settimane ho tre milioni di cellule e probabilmente anche un tumore quindi si scartano quello che si fa poi dopo è cercare di trapiantare cellule che siano uscite dal ciclo cellulare a tempi diversi perché ovviamente più il mio neurone matura più diventa delicato quindi se io trapianto il neurone al novantesimo giorno di differenziamento è probabile che questo non sopravviva al distacco dalla Petri all'iniezione nel cervello quando lo è iniettato probabilmente è morto quindi generalmente si deve identificare quel periodo intermedio dopo l'uscita dal ciclo cellulare e prima della completa maturazione affinché la cellula sia in grado di sopravvivere al trapianto e una volta trapiantata in grado di integrarsi nel cervello dell'ospite quindi prima di tutto si valuta questo quindi quando si trapiantano gli animali generalmente gli animali vengono poi sacrificati a tempi diversi dopo il trapianto quindi ci si deve assicurare che le cellule non abbiano continuato a proliferare che siano vive che si siano integrate e che possibilmente abbiano completato il processo del differenziamento se poi i neuroni io li trapianto per curare una patologia neurodegenerativa il passo successivo è quello di trapiantare i neuroni nell'animale che mima la mia malattia nella speranza che il trapianto porti un beneficio all'animale e quindi se che ne so il mio animale non è più in grado di camminare poi ricomincia a camminare oppure il deficit rallenta nel tempo a quel punto lì io ho delle prove che supportano la capacità delle mie cellule di dare un beneficio supportano il fatto che siano sicure e quindi il passo successivo generalmente è fare questi trapianti in animali di taglia più grande o anche ovviamente nei primati e poi eventualmente se tutto va secondo programmi quindi le cellule sono sicure e sono efficaci si fa eventualmente la sperimentazione dell'uomo però passano anni e soprattutto sono sperimentazioni che sono estremamente controllate quindi ci vuole qualcuno che arruoli i pazienti pazienti che erano seguiti già da prima quindi i pazienti vengono arruolati vengono sottoposti al trattamento seguiti in maniera costante e rigorosa soprattutto prima che sia dato l'ok affinché questi trapianti vengano fatti possono passare veramente degli anni cioè sono processi molto lunghi perché richiedono che siano sicuri perché il paziente deve essere assolutissimamente tutelato questo sì è la cosa più importante di tutte c'è una cosa che non ho molto chiara se lei sviluppa un IPS la differenza e si riesce a trapiantarla cosa garantisce che non esprima la stessa degenerazione del tessuto e soprattutto se è solo lo stato giovanile della cellula si hanno studi che misurino nel tempo il decadimento cui la cellula dovrà andare incontro perché se ha la stessa giusto allora questa è assolutamente una domanda assolutamente lecita è chiaro che se io sono malata di Huntington e mi trapianto una cellula che è mutata prima o poi anche il mio neurone degenererà quindi in realtà quello che si sta cercando di fare in parallelo sono cercare di sviluppare delle tecnologie che permettano di eliminare quella porzione di gene che c'è di troppo in maniera tale da trasformare la mia cellula malata in una cellula sana e trapiantarmela successivamente quindi in realtà è assolutamente più complicato di come io ve l'ho descritto perché è chiaro se io soffro di diabete e le mie cellule beta pancreatiche non funzionano se io mi trapianto le mie cellule è chiaro che non guarirò mai dal diabete quindi in realtà la possibilità sì c'è questa questione qui che deve essere risolta in realtà per alcune malattie sono stati in grado di diciamo risanare la cellula prima del trapianto ad esempio mediante un'ingenerizzazione cellulare c'è stato più o meno contemporaneamente al caso stamina non so se avete sentito parlare del lavoro che è stato svolto dal professor Naldini che lavora a Milano Naldini praticamente quello che loro hanno fatto studiano una malattia che ha un nome complicatissimo che sinceramente al momento non mi ricordo che colpisce i bambini quindi loro hanno delle cellule che sono incapaci di produrre un enzima che è fondamentale per la sopravvivenza cellulare quello che loro hanno fatto è stato prendere le cellule di questi bambini malati inserire all'interno delle cellule il gene mancante in maniera tale da trasformare la cellula incapace di produrre l'enzima in una cellula capace di farlo e queste cellule sono state successivamente trapiantate e in realtà hanno avuto dei successi strepitosi perché loro hanno seguito questi bambini per almeno credo tre o quattro anni dopo il trapianto e questi bambini sono ora bambini normali che si sono sviluppati come un bambino normale della loro età che invece se non fossero stati trapiantati sarebbero andati incontro a morte quindi in realtà a seconda della patologia che uno ha intenzione di curare c'è anche questo aspetto che assolutamente non è da sottovalutare per quanto riguarda invece la seconda domanda in realtà al momento nessuno ha avuto la possibilità di studiare diciamo queste cellule trapiantate dopo anni per vedere come sono ci sono però pazienti sia Huntington che Parkinson trapiantati con cellule di origine fetale che dopo anche 10 anni ancora beneficiano del trapianto quindi hanno avuto un forte rallentamento della patologia però ovviamente delle cellule che sono presenti nel loro cervello non sappiamo niente sicuramente verrà fatto qualche studio una volta che questi pazienti saranno deceduti però si sono integrate e ancora sono lì e fanno il loro mestiere io sempre riguardo ai motoneuroni avevo un quesito da porre dunque intanto volevo capire se c'erano delle cose fatte già sull'uomo oppure se eravamo fermi solo al topo primo e secondo se siccome i motoneuroni ce ne sono alcuni che hanno degli assoni lunghissimi quindi mi chiedevo il trapianto che viene effettuato poi alla fine riescono o nel topo non lo so o nell'uomo queste cellule a trovare la strada per farsi questi assoni così lunghi a dare origine appunto a una nuova fibra nervosa purtroppo in tutta onestà non so rispondere a questa domanda perché non mi occupo di motoneuroni quindi non conosco assolutamente in maniera approfondita l'argomento quindi sinceramente non saprei proprio dirle mi spiace io volevo chiedere se c'entrano qualcosa i telomeri e la telomerasi in tutto questo discorso del differenziamento dello sdifferenziamento sì e come sono stati cioè puoi dire qualcosa su questo praticamente nel momento in cui una cellula somatica viene riprogrammata in una cellula stamina pluripotente le telomerasi si riattivano quindi allora la telomerasi è quell'enzima che praticamente sintetizza diciamo la porzione terminale i telomeri di ciascun cromosoma mano a mano che la cellula invecchia i telomeri si accorciano nel momento in cui la riprogrammazione ha luogo le telomerasi ricominciano a funzionare quindi funzionano come funziona in una cellula staminale embrionale addirittura nel caso della riprogrammazione di cellule somatiche femminili in cui uno dei due cromosomi X è inattivato il crosoma X inattivato viene riattivato quindi è proprio un processo che converte completamente la cellula somatica in una cellula pluripotente sono quasi del tutto identiche sono stati fatti numerosi studi per valutare e confrontare i profili di espressione di una cellula IPS rispetto a una cellula IS e sono estremamente simili anche se non proprio del tutto identici però diciamo che le caratteristiche principali sono assolutamente le stesse si è proprio un processo che rivoluziona completamente lo stato della cellula ma in realtà no perché si riattiva in una cellula dove è normale che siano attivate il problema è se in una cellula adulta quindi differenziata le telomerasi si attivano e quindi poi quella ad esempio è una delle caratteristiche delle cellule tumorali però sono proprio due tipi cellulari diversi perché la cellula tumorale è una cellula che si replica in maniera incontrollata ma è una cellula che è una cellula differenziata quindi ricomincia a fare una cosa che non dovrebbe fare dovuta all'accumulo di una serie di mutazioni invece quando io riprogrammo una cellula somatica ad una cellula pluripotente è giusto che la mia cellula sia in grado di dividersi all'infinito grazie e posso con il video non sono quando si 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 posso controllare se ho sulla mia pennetta qualcosa se avete tempo e voglia non assicuro però di avere tutto il materiale come? ok Grazie. Grazie. Ci impiego proprio due minutini velocissimi. No, questa è ad esempio un'immagine che è presa dall'articolo che abbiamo pubblicato relativo al nostro protocollo che fa vedere come cambiano le cellule dal giorno zero del differenziamento in cui esprimono in questo caso ad esempio OCT4 che è un gene tipico delle staminali embrionali al giorno 15 dove invece la sua espressione è completamente spenta e parallelamente invece si attivano geni che sono normalmente espressi dai precursori neurali e la cosa interessante del lavoro che noi abbiamo fatto è che noi abbiamo sempre paragonato l'espressione dei geni che noi vediamo in vitro con quello che normalmente si vede in vivo. Questa qui ad esempio è una sezione di cervello di un feto a 11 settimane di sviluppo dove siamo andati a studiare l'espressione di un gene che è normalmente espresso nei precursori dello striato. Questo perché quello che noi abbiamo cercato di fare è stato appunto assicurarci che durante il differenziamento in vitro le cellule avessero le stesse caratteristiche che assumono in vivo durante il normale sviluppo dello striato. Questo è stato fatto per diversi marcatori che sono normalmente espressi nello striato umano durante lo sviluppo fetale e quindi poi sempre questa è stata paragonata, questo ad esempio è uno striato umano che esprime due dei marcatori che si utilizzano per identificare i neuroni striatali. Quindi la cosa importante è che quello che noi otteniamo in vitro sia il più simile possibile a quello che è normalmente presente nel nostro cervello. Questi sono gli esempi di neuroni che noi otteniamo dopo 45 giorni di differenziamento. Vedete che hanno dei prolungamenti molto molto lunghi, questi qui più tondi sono i somi dei neuroni e gli assoni possono essere lunghi anche uno o due centimetri in vitro, diventano veramente lunghissimi. e esprimono diversi marcatori, ad esempio MAP2 è un marcatore che è espresso da tutti i neuroni del cervello, quindi un precursore neurale quando smette di proliferare inizia ad esprimere MAP2. Quindi ad esempio quando noi controlliamo in vitro lo stato delle nostre cellule sappiamo più o meno a che punto del differenziamento si trovano dai marcatori che loro esprimono. Quindi ad esempio se devo andare a fare un trapianto, trapianterò delle cellule che sono già MAP2 positive perché sono sicura che non sono più in grado di proliferare e quindi di ad esempio dare origine ad una crescita tumorale nel cervello. E poi ci sono altri marcatori che sono più tipici dei neuroni striatali come ad esempio il GABA che è il neurotrasmettitore che normalmente utilizzano i neuroni striatali e noi vediamo che dopo 45 giorni di differenziamento, qui il GABA è in verde, i nostri neuroni sono GABA positivi. Quindi questa ad esempio è un'immagine presa al confocale dove si vede in rosso l'espressione di MAP2, quindi significa che sono neuroni che sono usciti dal ciclo cellulare e in verde quest'altra proteina che si chiama DARP32 che è tipica dei neuroni dello striato. Quindi questo è il soma e questi sono i prolungamenti dei neuroni, questi sono sempre al giorno 45 e questo al giorno 80 ha un neurone striatale in cui si vedono tutte le ramificazioni che lo caratterizzano. Quindi noi abbiamo più o meno all'ottantesimo giorno del differenziamento un piatto che è più o meno pieno di neuroni e una parte di questi sono neuroni striatali. La beta 3 tubulina è un altro marcatore neuronale che inizia ad essere espresso un po' prima di MAP2, quando le cellule ancora proliferano. Poi beta 3 tubulina viene spento, si accende MAP2, quindi andando a fare delle immunofluorescenze a time point diversi del differenziamento io seguo quasi perfettamente tutto quello che si verifica. Volevo farvi vedere questa immagine visto che abbiamo parlato dei trapianti, queste sono immagini del trapianto che noi abbiamo effettuato, quindi praticamente le cellule vengono staccate dal piatto, le contiamo in maniera tale da trapiantare in ciascun animale sempre lo stesso numero di cellule e viene utilizzata una vera e propria siringa che ha un ago estremamente sottile, si utilizza uno strumento stereotassico che quindi praticamente permette di inserire l'ago in una precisa posizione all'interno del cervello in maniera tale da essere sicuri di depositare le cellule nel sito che noi vogliamo. In questo caso ad esempio era un esperimento in cui sono state trapiantate delle cellule in un momento che era ancora troppo precoce, perché se voi vedete da 3 settimane a 9 settimane quello in marrone è il trapianto, il trapianto è cresciuto enormemente di dimensione, quindi quello che è da fare è identificare un momento successivo durante il differenziamento affinché nel momento in cui se dopo 3 settimane questo è il mio trapianto, dopo 9 settimane deve essere di questa dimensione, non posso trovarmi in una situazione di questo tipo. Quindi in questo caso dopo il trapianto l'animale è stato sacrificato a diverse settimane e si va a vedere cosa succede. Nel nostro caso abbiamo visto che dopo il trapianto, nonostante le cellule avessero comunque continuato a proliferare, una parte di queste aveva differenziato e esprimeva i marcatori che noi avevamo visto anche in vitro ad esempio qua c'è il DARP32. E nel nostro caso i trapianti sono stati fatti in dei ratti nei quali lo striato era stato lesionato in maniera specifica per cercare poi di capire se le cellule trapiantate fossero in grado di migliorare i sintomi motori dell'animale. Lievemente sì, una cosa che stiamo facendo al momento è anche cercare di, oltre ad aumentare l'efficienza del differenziamento, anche di evitare quella crescita eccessiva successiva al trapianto perché quello può essere un bel problema. L'aumento della massa non vuol dire che comporti un miglioramento poi nelle condizioni? No, perché l'aumento della massa è dovuto al fatto che le cellule continuano a proliferare, quindi se sono presenti delle cellule che continuano a proliferare c'è il rischio poi che si sviluppi un tumore. Ma avevate detto che con la MAP2 avevano smesso di dividersi? Sì, però ad esempio nel nostro caso, perché il differenziamento non procede in maniera perfettamente sincronizzata su tutte le cellule quindi io posso trovarmi in un momento dove, non lo so, il 90% delle mie cellule è MAP2 positivo però io quando stacco le cellule stacco tutto, quindi mi porto dietro anche quel 10% che non è MAP2 e che è potenzialmente pericoloso perché continua a proliferare. Una cosa che stiamo facendo in laboratorio è usare delle tecniche che permettano di separare le cellule differenziate da quelle che non lo sono in maniera tale da eliminare tutta quella porzione di popolazione che ancora duplica e eliminarla dal piatto e successivamente anche dal trapianto per renderlo più sicuro. Questa è un'immagine un po' più grande, basta. Ci sono altre domande, le ringraziamo moltissimo. Grazie a voi. Bella e chiarissima lezione, grazie mille e poi magari in futuro ascoltiamo i progressi di questa storia. Speriamo che ce ne siano. Certo, certo. Abbiamo pensato di fare anche subito in successione una riflessione didattica sull'argomento oggetto appunto del seminario. L'altra volta io avevo da presentarvi un po' di cose e poi c'era il tempo, ne era rimasto poco di tempo e vi avevo comunque già anticipato che la riflessione didattica di oggi l'avebbe fatta la professoressa Marchetti che è la collega del liceo scientifico Cecioni di Livorno che ha avuto diverse esperienze di ricerca didattica con l'IRRE in vari gruppi di ricerca anche perché la scuola era sperimentale, è tuttora sperimentale anche se sono state soppresse tutte le sperimentazioni. e poi da tre anni a questa parte fa parte del gruppo delle trainer di SID di quel programma che vi ho detto che stiamo portando avanti qui alla scuola normale con l'Accademia dei lincei e l'ANISN, Scienze Amin Quirendo Discere, è una delle formatrici e delle esperte IBSE. Lascio la parola a Gloria. Grazie. Buonasera a tutte. Dunque, io appunto curerò la parte didattica di questo argomento che è piuttosto complesso. Come avete visto la volta scorsa, già anche al bienio parlando per esempio della rigenerazione si può introdurre quello che può essere un discorso su quello che è la capacità di rigenerare i tessuti. Però qui siamo a un livello diverso, per cui io mi sono indirizzata direttamente sul triennio. E proprio dall'analisi dei programmi, sapendo che appunto le scienze sono ricorsive, triennio e c'è varie gradualità del triennio e dobbiamo tener conto anche delle varie scuole del triennio. Nel senso, se siamo in un liceo, se siamo in un liceo scienza applicato, se siamo in un liceo linguistico, chiaramente, o un altro tipo di liceo, l'approccio deve essere diverso. Diciamo che le cellule staminali ci permettono di fare un possibile percorso, come vi ho detto, rivolta a ragazzi dai 16 anni in su. E diciamo che ci si può basare su quattro domande chiave. Che cos'è una cellula staminale? Da dove vengono le cellule staminali embrionali? Perché occuparsi delle cellule staminali? E come sono le cellule staminali pluriputenti indotte? Cioè l'IPS, che è proprio l'argomento di questo seminario che mi ha preceduto. Io ho impostato il lavoro partendo da una parte in cui tutto sulle cellule staminali, una parte invece finalizzata più alle cellule staminali IPS, quindi quelle indotte, e poi ho trovato la maniera di poter parlare di queste cellule staminali, e quindi di verificare quanto ragazzi hanno detto, attraverso un gioco che, diciamo, permette poi di valutare veramente se hanno acquisito determinate conoscenze. Allora, si può fare da questo? Dov'è che non scorre la DIA? Ecco, allora, gli obiettivi che ci poniamo? Allora, saper indicare la differenza funzionale tra cellule staminali, che sono quelle che si possono autorinnovarsi e differenziare, e le cellule specializzate. Sapere quali sono i diversi tipi di cellule staminali, saper descrivere alcune delle caratteristiche chiave delle cellule staminali, sia embrionali che adulte. Sapere quali sono le potenziali applicazioni delle cellule staminali, incluso il loro utilizzo per terapie cellulari, come è stato già anticipato, e come per nuovi farmaci o per modellizzare malattie in laboratorio, come è stato detto già. Considerare le cellule staminali pluripotenti indotte, le cellule IPS, come un esempio di tecnologia genetica, nel discutere le loro potenziali applicazioni. realizzare un poster in cui sintetizzare i concetti appresi. Questi sono gli obiettivi che ci poniamo con il nostro percorso, e come poter procedere per realizzare il percorso. Allora, il percorso si può avviare o con un video, che in questo caso è un video di un 15 minuti, che introduce proprio l'argomento e fa capire ai ragazzi di che cosa si andrà a parlare, e stimola soprattutto la curiosità dei ragazzi. Oppure questa curiosità nei ragazzi, che sempre ci deve essere prima di approcciare un certo percorso, può essere introdotto da domande, da un articolo che si porta in classe per far leggere ai ragazzi, oppure chiedendo loro, facendo loro delle domande, mirate a far emergere appunto interesse e curiosità relativo al problema cellule staminali. Nella prima fase gli studenti hanno delle schede. Queste schede, io ora ne ho fotocopiata qualcuna, sono schede che naturalmente ora non trovo quella che mi interessa. Dunque, sono schede comunque che hanno come argomento base le cellule staminali. Loro avranno queste schede e sono schede che riguardano, gruppi di schede, che riguardano i quattro argomenti che abbiamo visto all'inizio. Quindi le quattro domande che abbiamo posto ogni domanda avrà una serie di schede. I ragazzi quindi apprenderanno, leggeranno queste schede, apprenderanno questi concetti, poi hanno una scheda, una per gruppo, in cui c'è una proposta di attività. Quindi loro devono realizzare un poster e quindi dovranno organizzarsi per realizzare questo poster. Poi il poster dovrà essere presentato e la fase finale è ovviamente la compilazione di un questionario. Per far questo i ragazzi che hanno lavorato ogni gruppo su un determinato tema dovranno diciamo avere conoscenza anche di cosa ha fatto ciascun altro gruppo. Questo come avviene? Avviene attraverso la presentazione. Come succede diciamo nei scusate è andato questa è la realizzazione del poster dove appunto i ragazzi lavoreranno in 4 o 5 per gruppo e dove appunto potranno utilizzare il materiale per fare il proprio poster. Ma la cosa importante scusate il successivo io non so perché non mi ci va vabbè lo faccio da qui ecco la presentazione del poster sarà la cosa più interessante una volta fatto il poster perché come succede nei diciamo nelle riunioni a carattere scientifico dove a un seminario partecipano illustri ricercatori che sintetizzano quello che è il loro lavoro attraverso dei poster in maniera che tutti i colleghi possono prendere visione del lavoro fatto e quindi poi partecipare alla discussione finale con domande opportune. Ecco i ragazzi una volta presentato fatto il poster potranno anche incaricare uno del gruppo di presentare il poster o di stare vicino al poster per rispondere alle domande dei vari diciamo compagni che hanno lavorato su poster diversi quindi su domande diverse alla fine diciamo ogni studente avrà da compilare un questionario e quindi dovrà aver presso visione di tutti i poster ovviamente perché il questionario finale sarà un questionario su tutte e quattro le domande ok l'analisi dei poster poi verrà fatta in classe e quindi questo ci permetterà di correggere eventuali errori allora il materiale per gruppo sarà un mazzo di carte cioè queste schede diciamo che consegniamo a ciascun gruppo abbiamo quattro tipi di schede di carte il primo gruppo risponde alla domanda che cos'è una cellula staminale quindi cosa possono fare le cellule staminali e quali tipi di cellule staminali ci sono il secondo gruppo di carte invece riguarda da dove vengono le cellule staminali embrionali quindi si parla della blastocisti e della cottura cellulare FIV che è la fecondazione in vitro perché occuparsi delle cellule staminali è il terzo gruppo di carte e queste diciamo carte riguardano invece le cellule staminali pluripotenti indotte le EPS di cui abbiamo parlato poco fa creare poi cellule staminali è quella appunto che abbiamo visto le applicazioni al giorno d'oggi ed in futuro risponde alla domanda perché occuparsi delle cellule staminali quello delle pluripotenti indotte ho messo una nota cioè consigliata a studenti più grandi o particolarmente abili perché lì i concetti che ci sono come prerequisiti sono veramente tanti un cartellone è necessario per il poster quindi formato a 1 penne colorate un questionario per ogni studente perché dovrà essere compilato al momento che ognuno poi riesce dopo aver visto i vari poster a redare il questionario il tempo calcolato va da 90 a 120 minuti per cui è una cosa che si può fare diciamo abbastanza tranquillamente perché non è un tempo così lungo per quanto riguarda diciamo le cellule staminali riprogrammate che può partire appunto da quello che è il premio Nobel di cui ci ha parlato anche la dottoressa poco fa Shinya Yanamaka e John Gardon in pratica hanno preso il premio gli è stato affidato il premio Nobel nel 2012 proprio per i loro lavori sulle cellule staminali le cellule staminali indotte che sono pluripotenti e che sono cellule che diciamo che derivano da cellule specializzate cellule mature che vengono riprogrammate completamente e questo ovviamente sconvolge un po' quella che era diciamo la concezione delle cellule specializzate una cellula specializzata era ormai una cellula differenziata così era e così si poteva sì a limite riprodurre ma non tornare indietro la scoperta delle cellule IPS rivoluziona la comprensione dello sviluppo e della specializzazione delle cellule apre la strada alla medicina regenerativa e solleva nuove questioni etiche quindi le cellule staminali IPS ovviamente sono un possibile percorso già di per sé quindi i prerequisiti ovviamente sono che i ragazzi sappiano che cosa sono le cellule staminali però prerequisiti ce ne sono se si vuole approfondire il discorso e si vuole che i ragazzi capiscano cosa sono queste cellule occorrerà oltre la struttura delle cellule prokariotiche e eukariotiche anche la sintesi delle proteine la duplicazione del dna la divisione cellulare l'espressione genica l'embrione sapere cos'è un embrione e poi la cellula staminale la cellula differenziata quindi come vedete siamo a un livello superiore per fare questo percorso l'altro poteva essere anche un po' più diciamo superficiale generale e quindi non andava specificatamente verso questo tipo di cellule che diciamo sono un po' particolari gli obiettivi sapere spiegare le procedure per mezzo delle quali sono state prodotte coltivate e mantenute le IPS questo è un obiettivo abbastanza elevato sapere quali sono le differenze tra cellule staminali embrionali adulte elencare alcuni vantaggi nell'uso di cellule staminali adulte elencare alcuni problemi aperti nell'uso delle staminali adulte sapere quale sono le varie applicazioni nella ricerca delle staminali adulte sapere quali sono e comprendere i problemi etici legati all'uso delle staminali noi abbiamo parlato per esempio solo di sicurezza in questo in questo contesto però i problemi sono aperti anche di altro tipo non solo di sicurezza conoscere che cosa la legge italiana e europea prevede al riguardo di queste cellule comprendere testi e video in lingua inglese realizzare un post in cui sintetizzare i concetti appresi presentare il post e il prodotto e realizzare ed implementare sul sito della scuola un learning object cos'è un learning object in pratica è un diciamo è un percorso un piccolo percorso che inizia termina è autoconsistente e attraverso l'uso del learning object si realizza un learning e quindi un prodotto che viene messo sul sito della scuola può essere un prodotto che viene utilizzato anche da altri studenti che magari non hanno fatto il percorso in classe l'argomento al solito può essere introdotto da una discussione da un articolo di giornale io preferisco un video in questo caso è un video dove il dottor Yanamaka è lui stesso diciamo che introduce l'argomento e motiva cosa l'ha spinto a ricercare in questo senso lui è un medico non è un biologo come Gardon Gardon è un biologo inglese lui invece è un medico è un medico che si interessava di pazienti con problemi al midollo spinale e a un certo punto era preso dal diciamo un po' dallo sconforto di non poter aiutare questi pazienti per cui ha iniziato a lavorare e a cercare una possibile soluzione e questi studi sono andati avanti per molti anni fino a che è riuscita appunto a riprogrammare le cellule per cui questo è stato un risultato per cui gli è stato conferito il Nobel gli studenti lavorano in gruppo anche in questo caso e utilizzano il materiale fornito una sitografia e questionario relativo all'IPS sulla base delle informazioni da loro ottenute attraverso un'attività di webquest rispondono al questionario e realizzano un poster ecco in questo caso visto che si tratta di ragazzi più grandi abili soprattutto gli ho detto che è un discorso un po' elevato per cui siamo in una quarta quinta monoegno futuro per esempio di un liceo sicuramente o comunque di una scuola in cui quei più requisiti ci sono i ragazzi già le hanno il webquest è una metodologia inquired anche quella è una metodologia interessante perché i ragazzi fanno una ricerca una ricerca e trovano risposte a domande e devono saper analizzare devono saper scegliere cosa è importante cosa non è importante devono sapere esprimere devono saper interpretare a volte dei testi che sono in inglese è tutta un'attività che nel gruppo porta uno stimolo forte anche alla collaborazione al confronto di idee allo scambio quindi non è diciamo un'attività diciamo che non dà dei risultati diciamo in termini metodologici e non arricchisce ragazzi anzi i ragazzi si trovano molto bene con questo con questa metodologia perché per loro la ricerca attraverso internet è un qualcosa che diciamo deve essere fatta loro loro usano sì internet però bisogna anche saperlo usare non sempre le informazioni sono quelle informazioni che ci servono a volte può essere dispersivo fare ricerche in internet non è fare un copia incolla noi abbiamo una domanda a cui dobbiamo dare una risposta e quindi dobbiamo cercare un'informazione ben precisa e non ci serve soltanto wikipedia per esempio per rispondere anche perché il webquest viene preparato dal docente e il docente deve calibrare le domande perché le domande saranno la strada che dovrà essere percorsa dai ragazzi da ogni gruppo e soprattutto deve fornire una serie di siti questo è consigliabile perché la ricerca libera può portare a una perdita di tempo enorme quindi il docente dà un'indicazione ai ragazzi e su questi siti dovranno lavorare ciascun gruppo poi presenterà il proprio poster e il poster ritenuto più esauriente e originale potrà essere utilizzato per implementare un learning object sul sito della scuola ovviamente gruppo di studenti esperti esperti perché perché per fare un learning object occorre usare un programma occorre quindi implementare questo questo learning object e questo piccolo percorso per le learning e quindi ci vogliono ragazzi abbastanza diciamo bravi in questo quello del video quindi allora sì in effetti non si vede bene ora qui non so se aspetta mi metto gli occhiali perché dunque il sito comunque allora non si apre io avevo fatto un collegamento però c'è poi tutta la sitografia in fondo avevo fatto un collegamento ma siccome questo dura 16 minuti era ovvio che non l'avrei fatto vedere magari cliccato visto dove era e poi basta abbiamo una slide con tutti i siti quindi poi la potete vedere perché questo viene messo sul sito quindi la presentazione poi la vedete con le friccette quello lì in cima è il puntatore sì soltanto che un mi riesce se hai poi la slide se la punti si semmai io la posso mandare sì 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 certo funziona quindi questa attività permette poi di avere un prodotto un primo prodotto che è di tutta la classe perché ognuno ogni gruppo farà un poster però avremo anche un prodotto di livello superiore e quindi i ragazzi sono anche stimolati a fare di più fare meglio perché quello che è il poster ritenuto migliore sarà quello che serve come base per implementare il LearnEoget e quindi sarà il gruppo investito diciamo da una gratificazione perché viene messo sul sito della scuola dove tutti potranno vederlo anche persone esterne alla scuola e quindi potrà essere un motivo per cui i ragazzi partecipano anche più volentieri a questo il materiale per gruppo sarà sicuramente occorre un computer con accesso a internet il video sull'argomento e quindi il sito relativo il questionario che è il foglio di lavoro in pratica attraverso il questionario i ragazzi si orientano e quindi procedono per rispondere alle varie domande la sitografia il foglio al solito formato a uno per il poster e delle pene colorate i tempi sono 3-4 unità orarie da 60 minuti il lavoro può essere ripartito in classe perché ci sarà l'impostazione del lavoro la ricerca sul web e quindi la discussione la rielaborazione dell'informazione all'interno di ciascun gruppo la decisione su cosa mettere come fare questo poster quindi la realizzazione a casa invece il lavoro del gruppo degli esperti per la realizzazione del learning object però il learning object diciamo che sarà facilitato proprio dal fatto che questi ragazzi hanno come base il poster e quindi tutta la sitografia che hanno utilizzato il questionario piano di lavoro per esempio è questo le cellule riprogrammate sono dette anche cellule EPS che cosa significa cellule EPS quindi approfondire questo aspetto attraverso quali processi sono ottenuti le cellule EPS qual è un'importante differenza tra le cellule staminali embrionali e le cellule EPS perché cosa si ritiene siano utili le cellule EPS le cellule EPS possono già essere utilizzate per fare cellule da trapiantare nei pazienti queste sono domande a cui abbiamo cercato risposta anche poco fa e qualcuno l'ha chiesto perché alcuni pensano che le cellule EPS possono risolvere delle questioni delle questioni etiche le cellule EPS possono teoricamente formare ovuli e spermatozoi che cosa potrebbe significare questo quindi un momento anche di riflessione non indifferente secondo gli scienziati quali importanti vantaggi hanno le cellule EPS e in ultimo che cosa prevede la legislazione in Italia e in Europa a proposito della ricerca e dell'impiego delle cellule staminali e embrionali e delle cellule staminali adulte quindi come vedete l'argomento attraverso queste domande a cui loro tramite la sitografia dovranno rispondere approfondiscono in particolare questo aspetto del problema delle cellule staminali adulte l'EPS la sitografia è questa tra la sitografia ovviamente ho messo anche un glossario perché mi sembra importantissimo che i ragazzi abbiano perfettamente conoscenza dei termini che usano e poi sono tutti siti che alcuni in inglese alcuni in italiano ecco perché tra gli obiettivi ho messo anche la comprensione del testo in inglese perché non dovranno esporre in inglese però perlomeno capire il testo quindi il fatto che siano ragazzi già di una classe quinta aiuta sicuramente perché da un punto di vista linguistico in quinta quantomeno hanno la capacità di comprensione di un testo in inglese quindi questa è la sitografia che potete poi prendere ecco il gioco invece di cui vi ho parlato è un gioco che riguarda appunto che cosa sono le cellule staminali quindi può essere un gioco che i ragazzi fanno a squadre un gioco che i ragazzi fanno al termine ovviamente del percorso questo è il facoltativo l'insegnante lo può fare oppure no però sicuramente ha un diciamo ha una valenza anche di valutazione perché si vede se i ragazzi veramente dopo il percorso hanno sanno quello che hanno fatto hanno la capacità di rispondere allora gli obiettivi sapere cosa è una cellula staminale definire il termine differenziazione sapere spiegare come sono coltivate le cellule staminali sapere quali sono i potenziali benefici dell'impiego delle cellule staminali ovviamente è rivolta a studenti maggiori di 16 anni i materiali sono il regolamento la carta da gioco i dadi questo è il tabellone il tabellone come vedete io l'ho stampato presenta delle caselle queste caselle attraverso il regolamento hanno un significato per esempio quando si arriva a una casella rossa il microambiente ha secreto il fattore di crescita adatto puoi proseguire lungo il percorso di differenziazione vai avanti quando si trova una casellina con il simbolo invece del DNA la casella rosa ti consentono di usare l'elica rosa del DNA per saltare fino alla prossima casella rosa quindi le cellule staminali sono state colpite da un agente mutageno il tuo DNA ha bisogno di essere riparato torna indietro è capitato su una diciamo tessera di colore blu quando c'è invece il punto di domanda allora devono prendere una domanda dalle carte che sono distribuite che è una domanda ovviamente sulle cellule staminali se non sai rispondere stai fermo un giro e prendi un'altra domanda potrai andare avanti solo quando avrai risposto esattamente alla domanda poi le caselle invece contrassegnate dall'ultimo simbolo che sono la 12 la 60 e la 24 sono casi situazioni che si presentano nella casella 12 hai subito un incidente e hai perso sangue nella casella 60 sei rimasta a prendere il sole per troppo tempo oppure la 24 hai ricevuto un trapianto hai bisogno di restabilire le tue normali popolazioni cellulari mobilizzando le cellule staminali devi rispondere esattamente a una domanda di riserva per andare avanti se darei la risposta sbagliata sarai fermo un giro e dovrai prendere un'altra domanda arancione quindi è un gioco tipo gioco dell'oca però ci sono domande le domande non sono del tutto banali per esempio questo è un sono quattro carte e queste sono le relative risposte alle domande per cui si possono controllare allora la prima carta per esempio è qual è l'obiettivo della terapia somatica con cellule staminali oppure che cosa si intende per clonazione terapeutica oppure quali tipi cellulari vengono utilizzati dai trapianti nel midollo osseo oppure qual è la differenza tra terapia somatica e terapia delle cellule germinali quindi sono domande a cui ragazzi devono dare risposta attraverso i dadi loro hanno una combinazione e vanno avanti nel percorso grazie per l'attenzione se avete domande avete volevo le cose del video sì sì ora se la cosa del video ora guardo se vi preparo una cosa e poi la mando sono due video diversi ve la spedisce a tutti i partecipanti sono due video diversi ora vi faccio ci sono se ce l'avete iscritti sì sì quello è sempre come quello dell'altra volta non so se avete domande siamo un po' sempre l'ora è ingrata io volevo solo fare una riflessione strada facendo l'avete visto che sarà una delle cose che ci capiterà forse il prossimo anno qui si può applicare il CLIL tranquillamente perché avete visto che l'inglese fa capolino ogni momento quindi uno potrebbe approfittare per fare un modulo CLIL anche su questo argomento visto che moltissimo del materiale è già in lingua praticamente se avete domande sicuramente in una quinta scusa sicuramente in una quinta sicuramente in una quinta ma tanto sei è in alto no se no non ti registrano sicuramente in una quinta dove il programma prevede anatomia e fisiologia no in quinta no c'è biochimica no ma quest'anno no ah quest'anno quest'anno c'è sempre il vecchio indirizzo le quinte del prossimo anno prevedono allora il prossimo anno il prossimo anno c'è biochimica e quindi per il prossimo anno che sarà il monoegno non si chiama in quinta io quinta intendo quest'anno la quinta quella del prossimo anno perché ormai è la programmazione allora per il monoegno siccome c'è una parte del programma che prevede poi tutta la parte delle biotecnologie e quindi può essere un aggancio a quello che è una frontiera della biologia cioè le cellule staminali la ricerca e i prerequisiti dopo aver fatto l'espressione genica DNA sintesi proteica espressione genica sviluppo e tutto mi sembra che l'aggancio ci possa essere tranquillamente buonasera allora vi saluto e ci vediamo lunedì prossimo ci sarà il professor Macino e parleremo di epigenetica e farò io la riflessione didattica arrivederci a tutti ieri a tutti ieri